Si parte venerdì con uno dei tre eventi organizzati a potenza dalla Banca Montepruno, con al fianco l'Associazione Sinergie Lucane, nell'ambito delle attività culturali connesse al 60esimo anniversario dalla Fondazione della Banca. Saranno tre gli eventi con ospiti d'eccezione all'insegna dello spettacolo, del divertimento e soprattutto della beneficenza. In ogni serata infatti ci sarà una raccolta fondi a favore di enti, associazioni, soggetti che operano nel sociale per dare un sostegno ai più bisognosi in un momento così delicato e particolare. Venerdì 28 ottobre, presso il Teatro Stabile a Potenza, Gianlucaus Fiammati, in un paese podolico, aprirà la rassegna con uno show satirico e ironico sulle vicissitudini, i costumi e il folklore lucano. Associata all'evento c'è la raccolta fondi che sarà dedicata all'associazione di volontariato La Casa del Pane. Per l'evento di venerdì sono ancora disponibili gli ultimi ticket di ingresso che prevedono una libera offerta a scopo benefico e tutti i soci potentini della banca potranno rivolgersi alla sede di staccata di potenza per poter ricevere fino ad esaurimento dei posti disponibili un ticket gratuito per partecipare. Il calendario prevede poi l'appuntamento del 19 novembre con Enzo De Caro e Antonio Norato in parole musica e l'appuntamento del 2 dicembre con Dino Paradiso in Ma io sono lucano. Il traguardo dei 60 anni, ha commentato il direttore generale Michele Albanese, non poteva tralasciare l'aspetto benefico. Questi tre appuntamenti a potenza nascono sotto questo preciso scopo, fare del bene attraverso la cultura con personaggi importanti e molto famosi. È nello spirito della nostra BCC da ben 60 anni operare in questo modo, promuovendo l'arte, incentivandolo a stare insieme, dando concreto sostegno a chi ne ha bisogno. Un ringraziamento particolare va a sinergie lucane nella persona del presidente Paola Faggiano per essere ancora una volta, concludo Albanese, al nostro fianco in queste iniziative e per tutto il lavoro messo in atto per la buona riuscita degli eventi.